Nato e cresciuto nel quartiere Trieste di Roma, ha frequentato il liceo Torquato Tasso. Dopo il liceo classico frequenta la facoltà di lettere presso l'Università La Sapienza di Roma, dove studia storia medievale. Si diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia sotto la guida di Lina Wirtmuller. Esordisce al cinema con la commedia Donna in Bianco. 1998, per la regia di Tonino Pulci. Nel 2001 è nel film Le Fate Ignoranti. Di Ferzan Opetek, che due anni dopo lo scrittura per il suo film successivo. La finestra di fronte, con cui l'attore ottiene la candidatura in Astri d'Argento come migliore attore non protagonista. E vince il globo d'oro della stampa estera come migliore attore. Nel 2004 recita in A luci spente di Maurizio Ponzi. Lo stesso anno vince il premio FP Shooting Stars al Festival del Cinema di Berlino. Dopo aver partecipato alle due stagioni della miniserie TV la dottoressa Jo, 1998, ritorna in televisione nelle serie di canale 5R, I, S, Delitti Imperfetti, 2005-2007. Nel 2008 recita in un gioco da ragazze dell'esordiente Matteo Rovere. In Amore che vieni Amore che vai. Tratto dal libro Un destino ridicolo di Fabrizio De Andrè. È tra i protagonisti della commedia Corale Amore. Bugie e calcetto di Luca Lucini. Che l'anno successivo lo chiama ad interpretare oggi sposi. Nel 2009 condiverso da chi. Commedia brillante dell'esordiente Umberto Carteni. Ottiene la candidatura al David Di Donatello. Come migliore attore non protagonista e vince il premio per l'interpretazione maschile Anneci. Cinema Italian per il suo ruolo nel film. Nel 2010 interpreta il ruolo di Danilo nel film Dalla vita in poi di Gianfrancesco Lazzotti con cui. Vince il premio come miglior attore al Taormina Film Fest. Nel 2011 e 2012 è in scena con lo spettacolo occidente solitario di Martin M. Ci Dona diretto dal. Regista colombiano Juan Diego Puerta López. Con il quale vince il premio è. T.I. Gli Olimpici del teatro come migliore attore emergente. Nel 2012 recita a fianco di Pier Francesco Favino e Marco Giallini nel film H. Ball Cops Are. Bastards. Tratto dall'omonimo libro di Carlo Bonini. Diretto da Stefano Sollima. Nello stesso anno è tra gli interpreti di E la chiamano estate. Per la regia di Paolo Franchi. Nel 2013 veste i panni di Ponzio Pilato nella miniserie italo-americana Varabba. Al fianco di Billizane. Nel 2014 è ancora a teatro nella piesa di Nilla Bute Pretti. Un motivo per essere carini. Con la regia di Fabrizio Arcuri. Nel 2015 è protagonista, al fianco di Camilla Filippi. Del thriller in fondo al bosco. E partecipa al film TV Limbo di Lucio Pellegrini.